10, Paolino Michele e Luigi Lampersi Applausi Il resto li cito velocemente Il resto li cito velocemente Soltanto perché o ormai decomposti da più di 5 anni O comunque persone ormai lontane Passato Pasquale a cui gli facciamo Ci metto al polso un saluto Sambiace Luigi un amico carissimo Paolino Michele abbiamo parlato Solo di Tino Anna la moglie che salutiamo Che è meno male che non è qui Della moglie di Raffaele che pure salutiamo con piacere Guardi ancora vita Lusso Carmela che salutiamo Beppe Chiavino che aveva abbracciato anche lui Non c'è vincenza Che non c'è più Qualche madre messa di una volta Eccolo Michele Chiavino sposato Eccolo 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 Io ti presento Come Andrea Occhi De Gasperi I fratelli Forreste con piacere Questa Nicola è la mascotte Sono 29 anni E' l'episodio da cui tutto è benissimo Chi se storia L'uva Accanto che i soci fondatori sono tutti presenti Si procede all'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo Preside l'Assemblea del socio più anziano per età Che è la buonanima del Dottor Salsano Pasquale Che indice nell'elezione che costituisce il senso elettorale Con i signori Giuseppe Lamberti Luigi E con gli scutatori Forreste Amario Avvengono le votazioni e per acclamazione Come si faceva ai tempi della Seconda Guerra Mondiale In eletto Presidente del Consiglio Direttivo In eletto Presidente dell'Associazione del 72 L'amico Alfonso Ciletta Vicepresidente Seguono le elezioni dei compagni del Consiglio Direttivo Il numero di tre membri Che caldo in giù Che caldo in giù Che caldo in giù Foresta Nicola Vicepresidente Però un appunto Un appunto Nel verbale successivo Subencerà Michele Da sempre Da sempre Perché perché Forresta Nicola era un amante della discussione, sappiamo che ci siamo a mano proprio a dissestare, Lamberti Luigi Cassiere, Forresta Mario, segretario, consiglio invece dei sindaci, Michele, Polillo e d'altro, Luciano eccetera eccetera, l'assemblea di Sottotitoli 22, ricordo Luciano, mi sembra in canzoni, questo è un buon orario, vuol essere domandò, questo è un buon orario del pescatore, il collegio dei sindaci è Michele Polillo, Luciano, Luciano Cognome, Luciano Cognome, Sorrentino Segno, Sorrentino Segno e Alfonso Alpino, l'assemblea di Sottotitoli 22, letto approvato e sottospitto, il segretario Mario Forresta e bestempo, un applauso, un applauso, un applauso, per le firme dei soci fondatori. Venti, è storia, va avanti, 25 anni sempre sulla crescita, basta, io non devo complimentarmi, cominciare a tutti, complimenti, solo i fondatori, solo i fondatori, complimenti, perché poi ci sei, e l'85 girato su Pezzera e nel 87, però, se Arturo mi chiamano, fa la squadra di pallone, comunque, domanda, 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 perché chiesto, complimenti, è storia, domanda, 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 grazie a tutti, 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 gra mamma si cuore il tuo cuore ridi ridi ma c'è il turco no 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 no